Dopo aver ricevuto il premio durante tutto l'anno scorso, abbiamo portato avanti delle iniziative di integrazione di Senza Fissa Dimora, come le persone che hanno delle disabilità, ma anche nelle aree di crisi. La Sia è stata un'unica, 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 un'unica. a beacon of hope. The award has enabled me to set up Zahid's Microseed Support Grant which is supporting microenterprises to uplift their living standards. This project has changed the thinking of government, has changed the thinking of private sector, has changed the thinking of the community. I am a champion and my life is transformed. Zahid Award has become a candle for thousands of people who are in darkness. Zahid Award